Ciao ragazzi, eccoci qua su Marauders. Allora, cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere le basi. Cioè, cosa c'è sul menu principale e facciamo fino ad arrivare al primo ride. Dopodiché, per non fare il video troppo lungo, facciamo il primo ride, quindi avremo un secondo video base, proprio sulle basi, su come affrontare il primo ride, cosa fare e cosa non fare. Va bene? Allora, per prima cosa la schermata è questa. Welcome to Marauders, clicca qui per vedere come si gioca, semplicemente vi porterà su YouTube e vi farà vedere le guide ufficiali del gioco in inglese. Non vi serve un cazzo perché le sto facendo io, quindi cancellate tutto e vaffana. Ecco. Partiamo dal secondo menu, perché tanti inizio che vi dico cosa c'è su gioca, perché tanto so che tutti quanti avrete cliccato in più, subito a vedere cosa avete sull'omino, eccetera, eccetera. Soprattutto quelli che sono abituati a Tarkov, l'inventario è identico, spiccicato. Cioè, nel senso, potete prendere gli oggetti, tenete schiacciato drag and drop, li spostate col mouse, tenete schiacciato R, li ruotate, dei soliti cazzate, insomma, è identico. Prendete tutto quello che avete sul vostro omino, lo svuotate completamente e mettete tutto qua dentro. Si può implementare con i punti prestigio che farete dopo con i contratti che andiamo a vedere. Il crafting, tutto questo qua, come ad esempio sta cassa, se apro cassa, vedete su altre armi, è comodissima, ne devo craftare in altre, mi serve il nastro, adesso lo vediamo. Il crafting, eccetera, è molto semplice, non chiede tanti oggetti, però come Tarkov, qualsiasi cosa poi la perdete. Clicc destro, potete riparare gli oggetti, scartare, distruggere, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti. Fabbricazione. Qui potete craftare. Allora, cosa si fa? Cliccate un oggetto, come vedete, vi dice un livello. Quanti punti crafting vi servono? Che sono questi qua? Che farete semplicemente con i livelli e con le missioni giornaliere. Ok? Più i soldi. Sempre qua, li vedete. Molto semplice. Sbloccate, dal momento in cui lo sbloccate, lo potete craftare. Guardate, qui vi dice, vi dà la spunta su quali avete già, vi dice quanti ne avete in possesso, quanti ve ne servono. Craftate la vostra nave, in questo caso, che è la seconda che sbloccherete. Due minuti aspettate, avrete la vostra nave, la ritirate e la trovate nell'hangar. Il sacco, fate così, ti 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 lo craftate, lo trovate. Bene, 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 bene. Apro e chiudo parentesi sulle navi. Le navi e tutti gli oggetti che avete, come il lanciasiluri, che io ho anche qua, vedete, il lanciasiluri, c'è un piccolo bug sulle texture. Se voi cliccate poi si sblocca la texture ufficiale. Vabbè, piccolo bug che risolveranno. Tornando alla nostra nave, costa pochissimo craftarla, ma perché se voi l'abbandonate e non la riprendete a fine ride, oppure ve la distruggono, la perdete, la dovete ricraftare, quindi voi vi mettete, ne so, la corazza, gli mettete i lanciamissi, gli mettete tutte le cagate, però in realtà poi come la perdete c'è un'e. Ho rottamazione, questo vi servirà per fare il primo contratto, perché se voi cliccate un oggetto, vedete, vi dice le percentuali per creare, che ne so, rifiuti, nastro, rottami, eccetera, eccetera. Ok, rifiuti 30%, ok. Ci sono degli oggetti come sul commercio, se lo trovate degli oggetti tipo cappelli, così, che vi serviranno per il primo contratto, perché hanno il 50% di creare rifiuti, che sono questi qua, vedete, rifiuti, ferraglia, di, eccetera, eccetera, ok. Voi andate lì, lo distruggete e vi ritornano, semplicemente drag and drop, cioè lo pigliate, lo buttate lì, lo lasciate e vi crea gli oggetti random, in base alle percentuali che vi ha dato. Aspetto, qui potrete modificare il vostro mino, ok? Alcune cose vanno sbloccate, cioè vi dirà, vedete, sblocco contratto, che poi vediamo, altre cose le potete sbloccare fin da subito, come ad esempio la mia casacca, questa qua, Space Parrot, le lo sbloccate subito, potete sbloccare testa, corpo e voce. Gli altri si comprano semplicemente, vedete, vi dà un prezzo, voi comprate, ci sono le varie modifiche, vedete vari colori, varie cose, voi le modificate, festa finita. Contratti. I contratti vi servono per far salire il vostro mino, su quello che è il pirata. Ci sono quattro fazioni, sulla fazione pirata. Oltre a sbloccarvi oggetti, come vedete, vi regalano un sacco di cose, qui due scatole di munizioni che quindi vi serviranno poi per mettere dentro tutta la robina, la paratia per la modifica dell'armatura della nave, il giubbotto che abbiamo visto prima da mettere addosso, tutte queste cagate, la testa, le puttanate, varie altre navi e Cristo Sant'Anna. Queste sono delle vere e proprie missioni, vedete, io devo uccidere tre player, sono a due, ammazzato il terzo e mi si sbloccava da quello dopo. Per fare la prima che vi dicevo è proprio questa, approvvigionamente vi chiederà tre scarti, comprate qualcosina, la rottamate finché non avete tre scarti e la completate immediatamente. La seconda vi farò un video a parte perché ci vuole, bisogna andare proprio su un punto specifico e fare una determinata cosa, dovete esaminare un oggetto che c'è solo su un determinato tipo di station, ma lo vediamo dopo, magari vi faccio un video anche di un minuto solo giusto per farvi vedere cosa dovete fare. Andiamo avanti, le armi, qui avete all'anteprima di tutto quello che avete voi nell'inventario, sia di skin, quindi come è fatta proprio fisicamente, che i loro danni e le loro performances, ok? Angar, qui potete modificare le armi, li potete mettere il silenziatore o il caricatore esteso. Non dovete portarvi caricatori quant'altro in raid, non esiste ancora il caricatore, cioè non è come Tarko che potete portare i colpi e i caricatori pieni, se portate tre caricatori avete tre caricatori, se spingiate male va per terra, dovete raccogliere per terra, no, voi vi portate i colpi, l'arma e ricaricate come quando volete, ancora è semplicissimo, quindi godetevelo finché dura perché secondo me diventa una tipo Tarko e vabbè, quindi. Torniamo al primo, gioca, qui potete in alto creare un equipaggio, cioè giocare con i vostri amici, o unirvi a un gruppo, entrare in raid in solitario, qui a destra avrete tre cose che ho scritto vuoto, ci cliccate sopra, questi sono i cose giornalieri, incarichi giornalieri, cose giornalieri, incarichi giornalieri. Come vedete vi danno sia reputazione che qualcosa, come in questo caso l'STG con le munizioni 762, fortissimo tra l'altro, che è XP, soldi, ok, dovete fare delle piccole missioni, alcune sono stupidissime, alcune dovete andare proprio sul punto, man mano che le fate, sono sempre quelle che si ripetono, una volta visti i 15 contratti, bene o meno sono quelli, sapete quello che dovete fare, sono abbastanza semplici. Tornando sui contratti, qui vedete, eccoli, queste sono le altre tre fazioni, che come vedete tocca portare avanti, come le portate avanti facendo quei contratti, queste non ci sono sui contratti, queste fazioni. I contratti servono per far salire la reputazione dei pirati e quindi avere nel momento in cui sul commercio troverete il pirata, in questo caso c'è quello dei SAS del regno, mi sembra, eccolo del regno difatti, questo è uno dei SAS, quando troverete il pirata avrete, oltre al scritto livello 2, uno sconto maggiore, avrete anche molte più cose da poter comprare e vendere, ok? Torniamo al gioco, ok. Detto questo, questa è la base, l'infarinatura base di tutto quello che avrete nel vostro menu. Svuotatevi, fidatemi di me e andate al prossimo video dove vi faccio vedere da svuotati, da completamente vuoti, come fare a uscire vivi, quello me lo auguro, con gli oggetti lottati e quant'altro, vi farò vedere anche cosa c'è sullo spazio, va bene? Ciao belli e al prossimo video. Grazie a tutti.